ciao a tutti siamo oggi a leggere assieme il primo capitolo del testo la scienza spirituale attraverso i secoli di virginia paganini da me curato e che potrete trovare su amazon cliccando sul link che metterò nella descrizione del video link che vi permette di ricevere a casa sia la versione cartacea come questa che quella ipub telematica ebbene il primo capitolo si intitola le religioni emergenti dal principio spirituale dell'uomo e dalle leggi naturali morali cominciamo la tesi dei due principi materiale e spirituale che formano le due essenze dell'uomo è già stata dimostrata scientificamente da uomini eccelsi ma io non tratterò questo argomento se non per quei profani delle scienze spirituali che hanno bisogno di assicurarsi semplicemente seguendo la guida interiore che la creazione ha un ordine prestabilito che ogni legge che la governa ha i suoi fini che nulla fu creato senza uno scopo determinato che deve prevalere e quindi che tutto ciò che nacque da principio e che fu produttore di bene morale se viene soppresso produce male fin tanto che riaffiora col tempo e con le lotte che ne conseguono giacché secondo una legge naturale immutabile tutto si ricompone secondo l'ordine prestabilito ciò rientra nelle aspirazioni del nostro animo che sorgono in noi spontanei spesso contrarie ai bisogni materiali e alle passioni terrene le quali generando una disarmonia interna ed un conflitto accennano ai due principi ricordati e alla missione che all'uomo sulla terra superiore a quella degli animali di rintracciare con la propria ragione le leggi naturali morali ed applicarle nella sua vita con tutti gli altri uomini allo scopo di generare concordia e benessere per tutti l'unico fine prestabilito da dio ossia il raggiungimento del progresso universale infatti basti osservare l'animale che essendo stato creato per essere semplicemente servo dell'uomo vive senza alcuna aspirazione non essendo lui sviluppata la scintilla divina accordata all'uomo per la quale può essere responsabile del proprio operato l'uomo per natura è libero e può con le proprie azioni raccogliere il merito e il demerito e li può usare ed anche abusare della propria ragione come meglio crede ma quando se ne serve in maniera differente per la quale gli è stata concessa al posto dell'amore che genera il bene reca fra gli uomini il proprio egoismo che è fonte di male e con esso crea contrasti che aggravano la vita di tutti poiché egli semina il male sul terreno comune rendendo molto più difficile il conseguimento dello scopo per cui la scintilla divina fu a tutti in partita questa solidarietà che la natura ci infligge con le sue leggi universali immutabili è la prova più certa che la fratellanza è una legge naturale inviolabile e pertanto l'umano progresso non può compiersi senza di essi infatti possiamo notare che quanto abbiamo ad oggi raggiunto è un progresso parziale ossia un progresso che non si estende su tutti gli uomini in generale come vorrebbe la legge morale stabilita da dio e pertanto invece di portare la pace ed assicurare il benessere comune esso è causa di invidia di odio di rapine e delitti dal punto di vista morale non può chiamarsi progresso poiché reca discordia ed è fautore di disordini contenendo dunque anche la natura come l'uomo i due principi materiale e spirituale con le sue leggi fisiche e morali evidentemente sancisce la missione dell'uomo sulla terra in base all'accettazione o violazione di queste stesse leggi da parte delle forze materiali e spirituali in suo potere ecco che da quando l'uomo con le sue imprese è venuto ad esistere materialismo e spiritualismo sotto diverse forme si sono contese il dominio sulla terra trascinando alla rovina le nazioni che più si discostavano delle leggi morali immergendosi nei piaceri materiali ed innalzando a dignità e benessere quelle che più immedesimavano queste leggi morali nelle leggi civili dello stato l'uomo primitivo non potendo ancora comprendere queste leggi morali non aveva alcuna nozione esatta del bene e del male la sua attenzione protesa specialmente verso i bisogni della vita materiale lo induceva a procurare a se stesso e alla sua famiglia il vantaggio migliore anche a danno del suo simile per cui l'egoismo si sviluppava conseguentemente a questi stessi bisogni e alla sua ignoranza sia nei confronti di queste leggi che dello scopo per cui gli fu data l'esistenza in queste condizioni in quelle condizioni scopo che doveva trovare lì stesso con l'uso della ragione e con l'esperienza accorgendosi di quanto la sua coscienza lo rendesse soddisfatto e lieto quando opera buone azioni verso il suo simile oltre la riconoscenza che si desta nell'animo di chi è stato da lui aiutato ricambiandogli un bene ancora superiore mentre accade il contrario quando danneggia il prossimo nasce lo sconforto nell'anima e il timore della provocata vendetta imparando così come nel sacrificio del proprio io per il bene comune egli acquisti il merito di promuovere il bene universale e con esso quella soddisfazione interiore che è così superiore ai piaceri materiali quando l'uomo era ancora selvaggio le passioni materiali prevalevano in lui come era naturale tuttavia la scintilla divina posta in quell'involucro materiale le cui esigenze per la vita assorbivano quasi tutte le facoltà della mente cominciò a scuotersi anche senza aver imparato a riflettere solo al cospetto della magnificenza del creato vivendo all'aperto egli partecipava a tutti gli stupendi e talvolta anche terribili spettacoli come eruzioni vulcaniche e cataclismi che allora dovevano essere molto frequenti essendo il globo ancora in frenetico movimento ed allora cominciò a riflettere e a convincersi che una potenza ignota a noi superiore lo dominasse questa prima intuizione dell'esistenza di un essere supremo come ognuno sa diede vita alle prime forme di religione ai riti di adorazione di sacrifici di propiziazione a quella potenza o potenze ignote elementi più illuminate o meglio più intuitive ne assunsero la direzione istituendone i diversi culti ed ecco apparire come belle definisce emilio serra groppello nella sua teoria delle religioni considerata nel suo rapporto etico le religioni inferiori basate sulla soggezione avendo sempre come obiettivo dei vantaggi materiali talvolta per allontanare pericoli o al fine di prevalere sui propri avversari ancora per evitare punizioni ed ottenere premi dopo la morte inoltre questo riconoscimento di un essere superiore alla potenza del quale nessuno poteva sottrarsi serviva a frenare l'animosità dei popoli ed anche la prepotenza dei dominanti ma quanta distanza a quei tempi separava quell'uomo semi animale che fece da la prima che fece da prima comparsa nel mondo all'essere potente destinato a spargere tutto il benessere che l'umanità può raggiungere seppure avvolta nelle spoglie mortali quanto cammino si doveva percorrere e quanto ne rimane ancora che quel primo impulso di religione unato spontaneo nel cuore dell'uomo doveva gradatamente tracciare di quante vesti quella dea benefica alla quale fu dato quel nome dovette ricoprirsi per rendersi apta a vincere la primitiva ignoranza e domare l'istintiva ferocia dell'uomo selvaggio e quanti errori e delitti furono anche commessi in suo nome prima che essa potesse apparire in sembianza veramente divina tuttavia cominciando dall'infanzia della terra fino ai giorni nostri possiamo constatare che fintanto che i promotori o direttori dei culti ai quali fu dato il nome di sacerdoti ebbero lo scopo della civilizzazione delle razze umane per guidarle ad entrare nelle vie prestabilite dal creatore quelle religioni perduravano e i popoli progredivano nel loro incivilimento quando però quei capi si servivano del prestigio acquistato per avidità di dominio combinando al culto così l'inganno o la frode quando invece di promuovere le aspirazioni dell'anima le soffocavano per imporvi la superstizione e la soggezione e la soggezione allo scopo di controllare i popoli quando invece di radunare nell'unione fraterna cospiravano con i despoti della terra per separare popoli e dividerli in caste e in classi decretando o sanzionando i privilegi che usurpavano i diritti ma la gran parte di essi quelle religioni per legge naturale morale col progredire del discernimento umano dovevano scomparire e quei conduttori quei capi fonte di guerre intestine e di ritardato progresso dovevano rimanere esecretati nella memoria dei posteri o almeno dimenticati per sempre. Mi auguro vi piaccia questo primo capitolo e vi sproni così a leggere tutto il saggio. Buona giornata!